Un saluto da Diego dallo stand di Alcatel, siamo in compagnia del nuovo OneTouch Idol Ultra, uno smartphone che è assolutamente il più sottile disponibile sul mercato. Solamente 6,45 mm, guardate come è sottile, disponibile in una varia gamma di colori, con il retro con una riferitura in plastica davvero molto molto bella anche al tatto diciamo. Il display è un 4,7 pollici, nel frattempo guardate la gente che cerca di tirare i miei telefoni, non ci arrivano che sono finti. Abbiamo un display da 4,7 HD AMOLED, con una risoluzione in HD, Android al suo interno è la versione 4.1, abbiamo qua in basso i tasti capacitivi, il processore è un dual core 1,2 GHz della Mediatek, nel retro la fotocamera è da 8 megapixel ed è in grado di registrare anche video in alta definizione. 16 GB è la memoria di RAM, disponibile diciamo, è la memoria interna scusate, 1 GB è la memoria RAM, 16 GB di memoria interna, disponibili per l'utilizzo 13.3, il resto diciamo solo mangia il sistema operativo. La batteria è da 1800 mAh, nonostante lo spessore è davvero un ottimo lavoro da parte di Alcatel, scusate di Siri Alcatel, scusate se mi impappino un po' ma c'è veramente un delirio in questo stand. Una cosa che manca, come potete vedere, è il jack audio. Infatti lo spessore di questo smartphone non permetteva l'inserimento di un jack audio che sarà disponibile con un accessorio da collegare alla porta micro USB. Per il momento è tutto, questa era l'Acer One Touch Idol Ultra che arriverà prossimamente nel mercato, nel frattempo guardate ancora le persone che cercano di levare il smartphone. Saluto da Diego.